Gentili telespettatori, buona giornata. Nuove persone in arrivo in Albania nei prossimi giorni con la nave Libra della Marina e intanto si muove la Corte dei Conti dopo le denunce fatte da Italia Viva e Cinque Stelle. I Cinque Stelle erano quelli che avevano fatto i decreti sicurezza con Salvini, che poi hanno mandato Salvini a processo e che adesso denunciano il governo con la Corte dei Conti. Volta Gabbana, Banderuole, agiscono solo per fini politico-elettorali. Decidete voi che cosa utilizzare per definire i Cinque Stelle. A così, intanto, mentre i centri ICPR in Albania sono assolutamente deserti, c'è solo un gruppo di poliziotti che presiede l'ingresso di questo pezzo d'Italia in terra d'albanese, recinzioni alte 9 metri. Bene, i nuovi ospiti sono in arrivo tra pochi giorni. Intanto sono aumentati gli sbarchi, eccetera, eccetera. Riprende l'operazione Albania con la nave Libra della Marina Militare che è già davanti l'Ampedusa in acqua internazionale, pronte a portare delle persone definite idonee per il rimpatrio. Quindi maschi adulti, soli, non vulnerabili, provenienti da paesi sicuri, un primo screening in mare e infine due giorni di viaggio fino a in Albania, a Shenzhen, dovrebbero arrivare tra mercoledì e giovedì. Il governo italiano ci riprova dopo che i giudici avevano detto che queste persone non potevano essere rimpatriate perché provenienti da paesi insicuri. Chi ha definito insicuri i paesi i giudici stessi? Su quali basi? Non lo sappiamo. Allora, intanto c'è il verdetto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovrebbe dare un verdetto entro dicembre, o meglio entro gennaio, quindi potrebbe arrivare fra due mesi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata interpellata dal Tribunale di Bologna che ha chiesto, tra virgolette, il permesso di disapplicare le leggi italiane fatte dal governo di centro-destra. Ora arriva anche l'esposto di Italia Viva e 5 Stelle per danno erariale. Ora la Procura dovrà valutare se esistono i presupposti che possano configurare il danno e poi decidere se archiviare il caso o aprire un'indagine contro chi? Evidentemente contro il governo e direttamente contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Eh sì, questi sono AVS e Italia Viva, diciamo che operano in palese contrasto con l'Italia stessa, che oggi è rappresentata dal governo Meloni. Denunciano l'Italia, il governo, la Meloni per danno erariale per aver fatto i CPR in Albania. Se quello è danno erariale, il super bonus, il reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle, il bonus monopattini, che cosa sono? Se quello in Albania è un danno erariale, quello che ha combinato Conte con i grillini e il PD al governo? Come lo dobbiamo definire? Catastrofe sui conti pubblici? È quasi fallito il paese con il cavolo di super bonus. Abbiamo rischiato il fallimento del paese, con oltre 200 miliardi di debiti adesso. Bene, adesso il governo cerca di aumentare il numero di migranti da trasferire. Non potranno più essere così pochi come i primi 16, che poi diventarono 12, ma si punta ad almeno 30-40 persone. Poi, intanto, la nave militare Libra, per quanto sia grande, in realtà non può portare più di 30-40 persone, per motivi di sicurezza. È una nave militare con poco spazio, non è una nave passeggeri, non è attrezzata per trasbordi. E poi, diciamo che su quella nave o su quelle navi diventerebbe anche rischioso perché i tunisini ospitati nel viaggio potrebbero, scrive un giornale, rivelarsi poco gestibili perché sanno di avere più chance di essere rimpatriati, dati gli accordi tra Roma e Tunisi. Quindi non se ne potranno imbarcare molti. Dice, non ci interessa, facciano come voglio, dice uno di loro. E intanto, a questo punto, la Corte dei Conti potrebbe indagare governo meloni per presunto danno erariale. Bisogna capire poi come si fa a dire che quello che fa il governo è danno erariale. Costruisci dei CPR e definirli danno erariale, allora se costruisci un carcere è danno erariale, se costruisci CPR in Italia è danno erariale, se fai un ponte che la Corte dei Conti dice, quel ponte se ne poteva fare anche a meno di quel cavalcavia, danno erariale. Diciamo che comincia a essere tutto molto aleatorio, tutto molto sui generis, tutto in Italia potrebbe essere danno erariale, tutto potrebbe essere abuso d'ufficio, anche se non c'è più. Capite che oggi le maglie sono così larghe che la legge la si può interpretare con discrezionalità, paese sicuro, non sicuro, chi te l'ha detto? Boh, danno erariale? Boh, forse sì, forse no. Ecco, è tutto molto, diciamo, campato per aria, dove alla fine c'è poco di legge ben precisa, ma è tutto a valutazione del magistrato di quel momento che dice, secondo me quel paese non è sicuro, chi te l'ha detto? Beh, sì, io credo che non sia sicuro, ho fatto una ricerca su Google, mi ha detto che ho letto un po' di articoli. Danno erariale, su che basi puoi definire danno erariale un CPR in Albania? Beh, sulle basi di... come? No, dicevo... quindi? Dunque? Ecco, capite che è tutto veramente campato per aria, siamo in mano al campato per aria, alla viva al parroco. Diciamo che in Italia siamo messi decisamente maluccio, molto male, non maluccio, molto male. Grazie a tutti e arrivederci a presto.